Saluti a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi presento un'anteprima delle prossime puntate di Terra Amara, in onda il 10 e l'11 agosto. Siamo sulla soglia di un commovente addio a uno dei personaggi più amati della serie. Le puntate a venire ci riserveranno momenti di intenso dolore, quindi vi consiglio di preparare un fazzoletto a portata di mano. Nel giardino, mentre Fadik gioca con Adnan, si avvicina a Ilmaz, che prende il bambino in braccio. Quando Zuleyha lo nota, corre a riprendersi il piccolo e se lo porta via. Ilmaz la segue in casa e cerca di spiegare che avrebbe dovuto gestire diversamente la situazione. Zuleyha risponde che avrebbe dovuto pensarci prima di prendere suo figlio senza avvisarla, e che non deve preoccuparsi di ciò che lei sta passando mentre lui passeggiava con il bambino. Ilmaz chiede perdono e implora Zuleyha di non rinunciare a loro due. Nel frattempo, Demir fa il suo ingresso in giardino. Zuleyha avverte Ilmaz di andarsene prima che Demir entri in casa, ma Ilmaz rifiuta. Demir chiede a Saniai della madre, e lei spiega che è al circolo cittadino per una riunione. Demir ha bisogno della sua firma. Nel frattempo, Zuleyha è preoccupata e prega Ilmaz di andarsene per evitare complicazioni. Lui accetta solo se Zuleyha lo raggiungerà alla villetta con Adnan. L'autista di Ankar comunica a Demir di aver lasciato Ankar in città vicino alla torre e di non averla aspettata a causa dei problemi della macchina. Gli aveva detto di portarla a riparare e poi tornare alla villa. Demir salta in macchina per raggiungerla. Poco dopo, Zuleyha si avvicina a Ilmaz, il quale rivela di aver preso Adnan perché è suo figlio. Zuleyha risponde che è anche suo figlio e che lo ha portato nel suo grembo per nove mesi, soffrendo quando lui non c'era. Ilmaz spiega che ha parlato con un amico in Germania e che stanno progettando una fuga. Zuleyha esprime la preoccupazione che Mugeigan non debba attraversare ciò che lei ha passato, indicando il suo desiderio di proteggere Adnan. Ilmaz chiede se Zuleyha vuole rinunciare a lui, ma lei risponde categoricamente di no. Nel frattempo, Gaffur scopre che i gendarmi lo stanno cercando e che deve presentarsi in caserma. È terrorizzato e si chiede chi lo abbia denunciato per l'omicidio di Atip. Richiama alla mente le parole di Sermin, che sembrano suggerire che lei lo abbia visto e denunciato. Nel frattempo, Bays si dirige cautamente lungo un ponte e, dopo essersi assicurata di essere sola, getta il coltello con cui ha ucciso Ankar nel fiume sottostante. Successivamente, si dirige verso la riunione al circolo cittadino con un sorriso enigmatico. Intanto, mentre Cetin e Fikret stanno discutendo, un operaio si fa male a una mano. Entrambi si precipitano ad aiutarlo e lo accompagnano in ospedale. Nel frattempo, Ankar giace ancora a terra in un campo abbandonato, circondato da antiche rovine. Al circolo, le signore discutono delle dichiarazioni di Demir sulla paternità di Adnan. Sermin difende Demir, ricordando che lui ha sposato Zuleyya quando era incinta e sola, accogliendola nella villa. Sottolinea anche che Ilmaz dovrebbe essere grato a Demir per il sostegno a Zuleyya e a suo figlio. Nel frattempo, all'ospedale, Fikret e Cetin arrivano con un operaio ferito e vengono assistiti da Mugeigan nel preparare una sala operatoria. Fikret, preoccupato per la possibilità di un'amputazione, chiede a Mugeigan di organizzare un'ambulanza per trasferirlo ad Ankara. Tuttavia, lei lo rassicura che l'ospedale è attrezzato per gestire la situazione e dispone di un eccellente chirurgo. Alla fine, Fikret chiede a Cetin di informare la famiglia dell'operaio e anche suo zio. Nel frattempo, al circolo, le signore continuano a discutere della paternità di Adnan e delle tensioni tra le famiglie. Sermin difende Demir, sottolineando che lui ama entrambi i figli in modo uguale e che Adnan è l'erede del suo impero. D'altro canto, Beys afferma che se Demir affiderà Adnan a Ilmaz, loro si prenderanno cura del bambino. In questo momento, Demir fa il suo ingresso e sente le parole di Beys, chiedendo spiegazioni sul significato della dichiarazione che Adnan è suo figlio. Beys, con un volto impassibile, ha visioni di Ankara che le attraversano la mente. Dopo aver eliminato Ankara, le ha sottratto il dossier e l'ha trascinata sotto un cespuglio. Dopo averle rubato tutti i gioielli che indossava, se ne è andata senza alcun rimorso. Demir è profondamente preoccupato e confuso poiché non sa dove si trovi sua madre. Nel frattempo, Gaffur è spaventato e angosciato all'idea di presentarsi alla stazione di polizia, temendo che abbiano informazioni sull'omicidio di Atip. Nel panico, entra in casa, prende parte dei soldi nascosti e, abbracciando una maglietta di Saniyei, chiede perdono e promette di scrivere una lettera da Istanbul spiegando tutto. Poi, vedendo gli oggetti di Uzum, scoppia in lacrime. Demir si reca in azienda alla ricerca della madre, ma lei non è presente. Viene a sapere che Sevda ha respinto il pacco che aveva inviato, il quale è stato consegnato ad Ankara, il che lo irrita ulteriormente. Nel frattempo, mentre Gaffur si dirige verso la stazione per prendere il treno per Istanbul, si trova di fronte a un posto di blocco da parte dei gendarmi. Un uomo gli comunica che stanno cercando un fuggitivo, e lui si allontana in preda al terrore. Demir torna a casa, sperando che sua madre sia tornata, ma non la trova. Apprensivo, confida a Zuleya che sua madre non è andata al club e nessuno sa dove sia. Anche Zuleya è perplessa per la sparizione di Ankar e cerca di rassicurarlo. Successivamente, Saniye riferisce di averla vista nel primo pomeriggio mentre scriveva una lettera nella sua camera. Demir si precipita nella stanza di Ankar, e trova la lettera incompiuta. La legge e la mostra a Zuleya. Entrambi notano il riferimento ai progetti matrimoniali con Fekeli. Demir esce per cercare Fekeli, convinto che sia con sua madre. Zuleya gli chiede di rimanere calmo. Rashid raggiunge Saniye e le comunica che Gaffur è scomparso dalla mattina e che ci sono urgenti faccende da gestire. Tuttavia, lei crede che lui stia semplicemente riposando da qualche parte e che lo troverà. Demir trova Fekeli e gli domanda dell'ultima volta che ha visto Ankar. Fekeli risponde che non l'ha vista quel giorno e chiede da quanto tempo non l'abbia vista. Nel frattempo, Gaffur, dopo essersi temporaneamente nascosto in una capanna, fa ritorno a casa dopo aver appreso di non essere accusato per l'omicidio di Atit. Viene calorosamente accolto da Saniye con un pranzo preparato con affetto. Nel frattempo, Demir e Zuleya cercano notizie sulla madre, chiamando tutte le sue amiche e riconoscenti, ma nessuno sa dove sia. Anche tra i dipendenti, nessuno ha notizie. Fekeli suggerisce di radunare gli uomini per cercarla in tutta Cucurova. Nel frattempo, nel paese, annunciano la sparizione di Ankar attraverso gli altoparlanti. Nel frattempo, in ospedale, Fikret ha donato sangue per il suo operaio e viene ringraziato da Mugeigan. A sua volta, Fikret esprime gratitudine perché l'intervento ha evitato l'amputazione. Nel frattempo, Fekeli e Mugeigan discutono della sparizione di Ankar, ritenendo che gli Yaman stiano esagerando. Nella villa, Demir, Fekeli e gli altri sono preoccupati per la sparizione di Ankar. Ilmaz arriva e offre il suo aiuto a Fekeli per cercarla, considerando che è suo padre. Gaffur ritorna felice, ora che non è accusato dell'omicidio di Atip, ma è inquieto per la sparizione di Ankar. Insieme, iniziano la ricerca e pregano per il ritorno in colume di Ankar. Gli uomini incaricati di cercare Ankar consegnano un fular appartenente a lei. Demir riunisce tutti per dirigersi verso il luogo indicato e scopre il corpo senza vita di Ankar, tra le antiche rovine. Qui terminano le anticipazioni. Se il video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like e condividere le tue opinioni nei commenti. A presto!